Il gol numero 140 tra i pro è un'autentica chicca, il 141 un acuto da grande attaccante, identikit di Salvatore Caturano che sale in cattedra nella ripresa trascinando un ottimo potenza all'1-2 in casa del Giuliano. La partita, sono 8, i risultati utili in fila per il potenza, nessuna defezione per De Giorgio, l'ex Felipe regolarmente ristabilito trova posto in mediana, con lui Eradi è l'unica novità a Castorani, in attacco spazio i 17 gol del trio Dauria-Caturano-Schimmenti, scelte praticamente obbligate nel Giuliano di Valerio Bertotto, squalificato Ievale, tocca a Valdesi, comporre una catena di sinistra praticamente inedita, sorriso per il rientro di Maselli, nel 4-3-3 la punta in giambe, assistito da Padulecciuferri, chiare fin da subito le intenzioni del trio offensivo Lucano, Caturano fa la sponda, Dauria verticalizza, Schimmenti calciaforte al volo, fuori, si studiano a lungo le due squadre, al 41esimo, Eradi in maniera quasi fortuita, irrompe in aria non trovando lo specchio, grande occasione potenza, è subito risposta Giuliano, Maselli, palla a scavalcare la difesa, Riggio in maniera troppo eruenta su Padula lo tampona, il rigore c'è, il secondo giallo no, nonostante levementi proteste campane dagli 11 metri, non calcia benissimo Giambè, ma tanto basta per metterlo all'angolino, 1-0 Giuliano, difatti al primo affondo della partita, per il camerunense e il quarto gol in campionato, quello che chiude i primi 45 minuti, non vuole correre rischi De Giorgio, non rientra dagli spogliatoi il già monito Riggio, al suo posto Milesi, si nota subito una manovra più fluida nel potenza, avvolgente azione a sinistra, pennellata di Burgio e tacco volante di Caturano, torna al gol dopo un mese il bomber, giocata d'autore e 1-1 potenza, a far paura sono sempre Nucani, sempre da sinistra, Dauria verso il secondo palo, Schimmenti con il giusto tempismo colpisce un clamoroso palo a russo battuto, adesso è un piacere guardare il potenza, Schimmenti continua a giganteggiare, a rimorchio c'è Felipe, ci vuole un super russo nell'evitare il classico gol dell'ex, c'è un autentico top player della categoria tra le file del potenza e risponde al nome di Salvatore Caturano, Novella va al traversone, il capitano trova la torsione vincente per ribaltare la partita, una carezza al palo e vantaggio davvero meritato per Caturano, sono 8 in campionato, con 4 punte, prova a tornare in linea il Giuliano, Giambè stacca più in alto di tutti, Alastra inchioda a terra, ultima chance campana, De Paoli si muove bene, rientra scegliendo il primo palo, Alastra accompagna sull'esterno della rete, poi i tre fischi, De Giorgio e il suo potenza mettono la freccia anche in classifica sul Giuliano, salendo a 25 punti in piena zona playoff, sono adesso 9 i risultati utili consecutivi per una squadra che continua a farsi apprezzare nel prossimo turno, altro scontro d'alta classifica, Caturano e compagni ricevono il Monopoli.